cari amici di visione tv benvenuti a un nostro nuovo appuntamento è tornato a trovarci l'amico giacomo gabbellini ciao giacomo ciao francesco grazie dell'invito ecco giacomo è sempre la fortuna di ogni giornalista perché è come un pianoforte con qualsiasi tasto si tocchi lui suona conosce geopolitica di economia di storie e poi anche un attento osservatore geopolitico e proprio da questo aspetto vorrei partire giacomo perché Tucker Carson di fatto ha affossato Fox News l'ex anchorman cacciato dalla televisione che veniva definita trompiana ma trompiana non era sta spopolando su twitter fa numeri incredibili che certamente non sono avvicinabili dalle televisioni tradizionali che sono palesemente invecchiate con l'arrivo del ciclone Carson l'intervista con Trump ha fatto numeri incredibili ma c'è stata un'altra intervista molto importante forse ancora più importante di quella con Donald Trump recentemente pubblicata da Carson vale a dire l'intervista con il presidente della Ungheria Orban tu hai seguito l'intervista di Carson al presidente ungherese? sì l'ho seguita con molta attenzione e mi è sembrato un diciamo un discorso di una razionalità di un accume di una consapevolezza che sono ormai diventata merce rarissima qua in occidente vedere un leader europeo poi in particolar modo esprimersi in quella maniera con quella padronanza sviscerare concetti che sono tutt'altro che banali ormai le nostre latitudini è stato un certo stupore e aiuta forse a capire anche perché Orban è ormai in viso a tutte le burocrazie europee da Bruxelles, dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea eccetera quindi diciamo il suo disallineamento oltre che di carattere economico e alcune scelte politiche sul piano interno è emerso anche rispetto alla questione della guerra ucraina che ha visto l'Ungheria un paese di 10 milioni di abitanti tutto sommato dotato di un peso specifico considerevolmente ridotto comunque si è messa di traverso rispetto a molte delle iniziative che erano state assunte in sede di Unione europea e anche di Nato alcune sanzioni per esempio contro alcune personalità religiose russe erano state bloccate dall'Ungheria in sede di Nato e questo Orban lo ha rivendicato durante la sua intervista con Tucker Carlson l'Ungheria ha sempre invocato la moderazione e la prudenza però stando a quanto dice lui e stando anche a quello che sono i risultati pratici le sue raccomandazioni non sono mai state ascoltate Quali sono stati gli argomenti principali che hanno trattato? Si è parlato di conflitto russo-ucraino anzitutto e l'introduzione è già subito molto una bomba perché Carlson parte con una domanda diretta poi in Occidente si dice che la Russia sta perdendo la guerra e l'Ucraina sta vincendo la risposta di Orban è inequivocabile dice no no questa è una bugia non è neanche un travisamento della realtà ma è proprio una bugia una mezzogna tutto tondo è qualcosa di impossibile è una prospettiva assolutamente implausibile perché è talmente tanta la sproporzione tra le forze in campo che non c'è possibilità per l'Ucraina di spuntarla e anche se su questo è molto chiaro Orban anche se continuassimo ad incrementare il volume delle forniture di armi e di tecnologie continuiamo a sostenere finanziariamente l'Ucraina la Russia comunque sarà sempre un passo avanti perché oltre ad avere una tecnologia e risorse superiori ha anche il fattore umano dietro di sé e dal momento che la Russia percepisce questa battaglia questa guerra come una guerra di carattere esistenziale non può permettersi di perderla e pur di vincerla metterà in campo tutto ciò che ha a disposizione e quindi diciamo che la Nato al suo avviso si è infilata in un veicolo cieco strategico pericolosissimo perché da un lato si rischia l'escalation incontrollata che chiaramente si materializzerà qualora alcuni paesi e sempre Orban lo sottolinea non fa i nomi specifici ma è chiaro a chi si riferisce si riferisce alla Polonia e ai paesi baltici dovessero essere tentati di ovviare al divario con la Russia mettendo in campo proprie forze sul territorio ucraino a quel punto si arriverebbe a uno scontro diretto diretto perché a quel punto non ci sarebbe più la cosiddetta interposta persona che sono gli ucraini un scontro diretto tra la Nato e la Russia con tutte le implicazioni militari, politiche facilmente intuibili e questo è stato il passaggio che mi ha colpito di più ce n'è un altro che quello denota la cultura e la cume di Orban che emerge proprio quando Orban sottolinea l'incapacità degli occidentali di comprendere la mentalità russa e le gerarchie valoriali russe Orban diciamo l'Iglia a quel punto un po' diciamo in maniera un po' ruffiana dice che qua in occidente si cerca di incentrare tutto il discorso politico attorno al valore della libertà si cerca quindi di elaborare metodologie utili a fornire quanta più libertà possibile io su questo non sono tanto d'accordo se devo dire la verità ma vabbè diciamo che è un argomento spendibile per l'opinione pubblica quello interessante è quando arriva al versante russo i russi hanno un'altra gerarchia valoriale che è condizionata dalla loro storia, dalla loro estensione geografica è dovuta proprio all'obiettivo strategico per i russi diciamo l'obiettivo fondamentale il rinunciabile rispetto al quale tutte le altre questioni assumono una rilevanza minore è il mantenimento, la preservazione dell'unità nazionale quindi come cercare di tenere insieme un paese così grande così complesso così geograficamente esteso così etnicamente composito e questo comporta tutta una serie di decisioni di provvedimenti che a noi possono risultare sgraditi o inconcepibili e portano alcuni poveri uomini a parlare sempre di autocrazie, controdemocrazie e amenità di questo genere in realtà la Russia mantenere, preservare l'unità nazionale comporta per esempio avere una forte dispiegamento di forze militari tenere un approccio, virgolette, sicuritario Orban sottolinea questo cioè cercare sempre di intravedere di prevenire rischi di natura militare e di intelligence quindi potenziamento delle forze degli apparati di intelligence una ricerca continua di creare zone cuscinetto da frapporre fra sé e i potenziali nemici proprio per evitare processi disgregativi che si sviluppino sul piano interno il tentativo di prevenire qualsiasi tentativo di rivoluzione colorata al proprio interno potrebbe innescare una spinta centrifuga molto pericolosa per il paese e tutto quindi l'approccio russo si comprende alla luce di questo relativamente può sembrare banale ma non lo è assolutamente la luce di questo presupposto cioè se per i russi l'obiettivo è quello tutto ciò che i loro provvedimenti le loro decisioni politiche il loro atteggiamento ne consegue chiaramente e gli occidentali o non lo capiscono o si rifiutano di prendere in considerazione una prospettiva di questo genere lui evidentemente essendo cresciuto all'ombra del muro di Berlino chiaramente l'Ungheria era collocata sulla parte orientale del muro di Berlino è più avvezzo ha un bagaglio di strumenti che gli consentono di interpretare il pensiero russo le preoccupazioni russe sicuramente migliori di tanti altri va anche detto che anche i polacchi sono stati sullo stesso lato della cortina di ferro ma esprimono una vocazione totalmente opposta la loro è la linea oltransista infatti la Polonia si sta armando fino ai denti in vista di una resa dei conti con la Russia mi pare evidente che loro stiano almeno una parte della loro classe dirigente stia remando verso quella direzione senti Giacomo da questa già molto corposa introduzione si travedono due aspetti molto importanti il primo è che Orban che probabilmente ha delle fonti di intelligence forse un po' migliori di quelle che ha Mentana Oppoente dice chiaramente che non è affatto vero che la controoffensiva ha delle possibilità di successo oggi in questi giorni stanno sbandierando la riconquista di un villaggio robotine da parte degli ucraini ma la realtà è che i russi stanno sfondando a Est a Kupiansk tu hai notizie sul dato militare sul fronte? sì c'è questi piccoli avanzamenti il fatto è che la linea la decisione dei russi di attestarsi in difesa è una scelta che risponde a una logica eminentemente conservativa i russi da parte loro cercano di minimizzare quanto più possibile le perdite e quindi allestendo queste linee difensive formidabili mi sembra che li chiamino gli artigli del drago che si sviluppano su tre linee sono frutto delle teorizzazioni dottrinali di alcuni alti ufficiali dell'esercito russo attestandosi su queste posizioni e disponendo del controllo dei cieli riescono a rendere, a vanificare qualsiasi offensiva e a infliggere un numero di perdite terrificante agli ucraini perdite che, ben inteso, ormai neppure la propaganda occidentale riesce più a oscurare perché solo pochi giorni fa sul New York Times è comparso un reportage chiaramente quasi annegato nel mare magnum della propaganda dominante ma chi le sa cercare quelle notizie le riesce a trovare con qualche sforzo comunque c'erano due giornalisti inviati negli ospedali da campo ucraini che chiedendo conto a un medico che operava in quella zona è stato detto che i numeri erano colossali cioè i feriti, gli amputati, eccetera anche qui c'è un dato molto interessante Michael Vleos che è un analista militare statunitense anche insegnato all'Accademia di West Point per esempio ha scritto un bellissimo saggio un articolo, un lungo articolo pubblicato sulla pubblicazione Compact si intitola L'esercito ucraino si sta rompendo sta cedendo insomma e lui traccia proprio una distinzione tra una sconfitta e proprio un collasso perché una sconfitta per esempio lui cita il caso di Canne che ride Roma comunque subire una sconfitta terrificante una carnificina da parte dei carteginesi durante la seconda guerra apunica che però pose la Roma nelle condizioni di organizzarsi razionalizzare le forze rimettersi in sesto e poi sul lungo periodo riuscire a invertire l'esito del campo di battaglia e quindi da una battaglia una delle due parti contendenti può uscire può trovare il modo di rafforzarsi invece all'avviso di Vleos l'Ucraina per il numero il volume di morti e soprattutto di feriti e di feriti che poi sono perdite irrecuperabili cioè sono feriti che non potranno tornare sul campo di battaglia perché hanno subito delle amputazioni sono altissimi si parla di tra morti e feriti si parla di quasi mezzo milione di persone lui fa un calcolo e si riferisce alla prima guerra mondiale quando il conto dei colpi d'artiglieria risultava un metro di misura piuttosto efficace per assaggiare il numero dei morti in uno schieramento e nell'altro se si prendono in esame se si confrontano il numero di colpi sparati quotidianamente dalla Russia e dall'Ucraina il rapporto è di 10 a 1 cioè l'Ucraina spara un colpo di artiglieria per ogni 10 che ne spara la Russia quindi si parla di un tasso proprio di 10 a 1 di morti e di feriti e di feriti secondo loro saranno anche superiori perché i russi avrebbero questo lo dice Vlaus lo dice anche il colonnello McGregor e che i russi hanno la capacità di soccorrere con tempi rapidi buona parte dei feriti che possono curarsi o tornare in servizio o comunque rimettersi nell'arco di qualche mese invece gli ucraini questa cosa per gli ucraini è molto più difficile perché hanno a che fare con una penuria di risorse dovuta non soltanto all'inadeguatezza delle forniture come qualcuno ha detto ma anche il fatto che una parte dei soldi e delle attrezzature che vengono fornite poi spariscono nel nulla e questo è un dato di fatto incontestabile non contestato da nessuno mi pare di vedere il punto è poi che Vlaus sempre nel suo articolo evidenzia che le amputazioni gli uomini che riescono meno mate da questo conflitto producono per esempio degli effetti anche di lungo periodo sul paese perché è molto difficile che le persone meno mate anche amputate di alcuni degli arti riescono per esempio a generare la progenie quindi non riusciranno a fare figli in un paese che è già demograficamente alla canna del gas è in declino demografico clamoroso l'Ucraina è uno dei paesi in declino più rapido a livello mondiale e su questo terreno già piuttosto complicato si è venuto a innestare questo conflitto che ha questo tipo di implicazioni questo genere di implicazioni per cui la situazione si fa veramente critica e quindi diventa ancora più tragico e sotto alcuni punti di vista intollerabile questa tendenza che hanno alcuni giornali occidentali addirittura alcuni politici perché il caso per esempio di Mitrovni è un senatore repubblicano dello Utah che molti ricorderanno che nel 2012 rivaleggiò con Barack Obama per le presidenziali degli Stati Uniti di recente in un'intervista televisiva ha dichiarato con grande disinvoltura che l'Ucraina è il migliore investimento di difesa di sicurezza che gli Stati Uniti potessero fare dopo infarcito da una serie di idiozie cioè gli ucraini stanno distruggendo l'esercito russo lo stanno logorando eccetera e noi riusciamo ad ottenere questo risultato quindi il logoramento di un nostro rivale senza perdere il nostro soldato la vita di un nostro singolo soldato questo non è vero perché ci sono uomini di intelligence mercenari finti operatori della Nato che operano a fianco degli ucraini questo si sa benissimo comunque si ha il numero di perdite umane da parte degli Stati Uniti in quel conflitto è minimo risibile questo è vero però parlare in questi termini di investimento quando un paese ormai è ridotto a 20 milioni di abitanti cioè quando c'è un quarto della popolazione che è andato scappato comunque si è rifugiato in Europa un altro quarto in Russia e una buona parte sta in quelle zone di confine e quindi rischia rischia concretamente o di essere caduta come vittime di guerra oppure di essere soggetta ad altro tipo di trattamento da parte degli eserciti insomma è una situazione tragica e quindi parlare con quel cinismo investimento verso un paese che si sta letteralmente dissanguando è qualcosa di inascoltabile ma del resto siamo abituati il Wall Street Journal lo scorso luglio ha pubblicato un editoriale io non sono rimasto basito cioè in cui si diceva che citando fonti di intelligence che loro ce le hanno sempre gli Stati Uniti erano al corrente che l'Ucraina non disponeva delle risorse né umane né materiali per sferrare un'offensiva di successo una controversiva di successo contro i russi ma questi apparati di intelligence scrive al Wall Street Journal ritenevano che l'intraprendenza il coraggio degli ucraini avrebbe fatto la differenza e questo non è accaduto cioè qui è come le battaglie della prima guerra mondiale nella prima fase in cui gli interi eserciti alla baionetta venivano mandati contro armi automatiche cioè l'eroismo deve fare la differenza cioè queste sono sono delle letture un po' hollywoodiane devo dire la verità ma ormai si sta veramente carne da cannone proprio spendibile senza alcun tipo di biremora da parte da parte degli occidentali io credo che i russi fino ad adesso continueranno a rimanere attestati su quelle su quelle posizioni fino a che il logoramento dell'Ucraina non risulterà definitivo e poi voglio dire una cosa c'è una a mio parere un grosso fraintendimento circa questa guerra perché le guerre si possono erogorare un paese possono indubbiamente hanno un costo umano ma di mezzi eccetera però si crede di aver inflitto la Russia comunque dei danni la Russia ha avuto delle ripercussioni in dubbia perché comunque avrà qualche decina di migliaia di morti questo è un dato di fatto e di feriti eccetera però sta allestendo un esercito tra i più secondo Douglas McGregor è un esercito che attualmente ormai ha raggiunto livelli di preparazione di competenza inarrivabili a livello mondiale perché questo è il primo conflitto simmetrico che viene combattuto dalla fine della seconda guerra mondiale cioè noi siamo stati abituati soprattutto agli Stati Uniti ma noi a rimorchio degli Stati Uniti a combattere delle guerre contro nemici militarmente inconsistenti si pensi all'Iraq si pensi alla Libia si pensi alla povera Jugoslavia cioè forze soverchianti che prendono di mira un paese piccolo e dotato si divertivano un po' come da ragazzi con i bulli 10 contro 1 ecco e questo ha delle implicazioni e si sono viste le implicazioni molto chiaramente per esempio quando si è trattato di rifornire l'Ucraina di armi si sono resi conto che i proietti di artiglieri erano insufficienti che adesso gli Stati Uniti impiegheranno anni per ricostituire le scorte dei missili Javelin degli Stinger eccetera perché non hanno la capacità industriale sufficiente a reggere i ritmi di produzione russa i ritmi di consumo che questo conflitto richiede perché per esempio il discorso era vabbè dal momento che noi abbiamo sempre avuto il controllo dei cieli l'artiglieria diventa superflua è l'aviazione che funge da artiglieria però nel momento in cui il controllo dei cieli non ce l'hai ti rendi conto che tu non hai niente da dare poi c'è tutta una serie di vicissitudini piuttosto interessanti che sono state rilevate dal sito analisi difesa di Gianandrea Gaiani che è sempre puntualissima che in cui parlava che proprio l'organizzazione della macchina militare statunitense ormai ha fatto del subappalto la regola quindi è stato tutto privatizzato quindi anche la gestione dei singoli centri i singoli magazzini che sono disseminati in tutto il mondo a cui attingono gli Stati Uniti nel momento in cui si tratta per esempio di fornire armi all'Ucraina hanno mobilitato una guage che avevano in Kuwait e hanno mandato alla società privata che aveva il controllo di questa struttura di prepararsi a inviare il materiale che doveva essere nel frattempo controllato messo a punto insomma revisionato eccetera nel momento in cui si è tratto di inviare questi sistemi d'arma una metà non funzionavano i veicoli avevano le gomme a terra i motori non funzionavano le cinture di sicurezza non si allacciavano i vetri erano rotti eccetera quindi dopo si capisce dove vanno a finire buona parte di queste spese militari degli Stati Uniti spendono quasi mille miliardi di dollari all'anno in armi ma in realtà è uno sperpero di denaro pubblico clamoroso perché ormai questo sistema delle porte girevoli che vede i generali in pensione essere assunti dalle cinque grandi società di cui si compone il complesso militare industriale in qualità di membri del consiglio di amministrazione e poi questi fanno valere i loro contatti con il pentagono e quindi definiscono le priorità di sicurezza nazionale che per esempio non comportano la produzione di sistemi d'arma che consentono che assicurano alle società produttrici margini di guadagno ridotti ma si concentrano sulle produzioni di altissima tecnologia che richiedono un sacco di soldi e che però non sono adatte a combattere guerre di questo genere per cui ne parlava sempre McGregor ma sono altre le valutazioni mi pare il Royal Institute Strategic Studies britannico parlava che gli Stati Uniti allo stato attuale se dovessero sostenere un conflitto aperto con la Cina o con la Russia consumerebbero le loro scorte di armi convenzionali nell'arco di un mese questo è un dato molto interessante quindi questa guerra sta mettendo nudo per un verso gli errori di calcolo compiuti dall'Occidente che non sono solo dal punto di vista militare tutti ricorderanno i russi sono militarmente impreparati sono alle prese con difficoltà per quanto concerne la fornitura ai propri soldati dei sistemi d'arma eccetera quindi appunto che combattevano con le pale qualcuno poi sparano 60.000 proietti di artiglieri al giorno però combattono con le pale e vabbè e di odiozia di altro genere l'idea qual è? la soffocheremo dal punto di vista economico la porremo nelle condizioni cioè nell'impossibilità di rifornirsi di avere collegamenti con il mondo esterno abbiamo visto che il 75% dei paesi del mondo non aderisce alle sanzioni abbiamo visto che la Russia riesce a compensare con la produzione interna una buona parte dei processi produttivi che prima avvenivano all'esterno quindi sta grazie a questa guerra sta riconfigurando la propria economia che al mio parere questa guerra aveva anche questo scopo cioè trasformare l'economia russa da economia sostanzialmente fornitrice di materie prime a un'economia basata sul consumo interno e quindi su una capacità industriale in grado di soddisfare una buona parte delle richieste della popolazione del fabbisogno interno e quindi questo è un processo notevole che però è anche evidenziato da alcuni dati ricorderanno tutti che per esempio l'ex senatore ormai defunto John McCain parlava della Russia come una stazione di rifornimento con armi nucleari più volte si è sentito dire ah ma la Russia è il PIL dell'Italia dove volete che vada allora il PIL nominale è un metro assolutamente inadeguato per saggiare la stanza di una nazione la Russia ha per PIL la parità di potere d'acquisto che è il criterio di gran lunga più affidabile rispetto a quello del PIL nominale è il quinto paese al mondo quinto paese al mondo più grande della Germania l'economia russa è più grande della Germania paragonata per PIL la parità di potere d'acquisto che privilegia le attività strettamente produttive rispetto a quelle legate al terziario quindi i servizi quindi è la guerra come sappiamo che è il test il test dei test per lo stato di un'economia ha messo in evidenza questa sproporzione cioè l'uccidente intero non riesce arrivare ad assommare ritmi produttivi in grado paragonabili a quelli della Russia e questo è un dato interessante e non è che come molti credono basta sia sufficiente assumere un po' più di persone e i ritmi di produzione tornano cominciano a correre con la delocalizzazione delle produzioni con la deindustrializzazione si sono perse delle competenze che per essere riacquisite ci vorranno decenni se va bene se ci riusciranno a riportare tutte le produzioni in patria quindi insomma c'è tutto un processo questa guerra sta mettendo nudo tante cose che magari a noi sorprendono ma sorprendono forse anche a una parte del resto del mondo che non a caso sta cominciando a guardare con crescente interesse verso direzioni alternative a quella occidentale ecco quindi da quello che abbiamo capito Zaleski è disposto a far morire tutti i suoi concittadini pur di servire evidentemente interessi che sono palesemente stranieri d'altro anno se lo riconosceva persino Quirico sulla stampa che alcuni giorni fa gli alti comandi ucraini a partire da Zaluzzi sono stati convocati dal capo della Nato che ha spiegato loro come attaccare a sud si è indignato persino Quirico dicendo insomma questi non sono padroni neanche di stabilire da soli una strategia di militare senza dover chiedere il permesso insomma situazione davvero tristissima Giacomo il secondo aspetto del discorso di Orbán che tu hai sottolineato nella prima parte dell'intervista è il possibile allargamento del conflitto ecco lui come immagina diciamo una eventualità di questo tipo intanto ti segnalo che credo che lo saprai già i russi hanno annunciato di avere reso operativo il missile intercontinentale Sarmat che può portare una serie di bombe nucleari da un continente all'altro è interessante notare come Orbán ripercorra proprio la genesi di questo processo Orbán dice allora la Nato comincia a espandersi nel 1997 è interessante ricordare che Jeffrey Sachs che è un economista che ha lavorato per molto tempo con le amministrazioni statunitensi disse che basandosi su fonti interne alle amministrazioni statunitensi l'idea di allargare la Nato e di arrivare a ricomprendere l'Ucraina cominciò a circolare nei corridoi di Washington già nel 1992 quindi questo è piuttosto interessante quindi un anno dopo il collasso dell'Unione Sovietica chiusa parentesi l'allargamento della Nato comincia nel 1997 con l'inclusione di Vave Polonia Repubblica Ceca e Ungheria nel 2008 vertice di Bucharest si comincia a parlare ormai la quasi uscente amministrazione Bush comincia a parlare con insistenza dell'integrazione dell'Ucraina e della Georgia nella Nato quel periodo la Russia mette chiaramente l'anno prima Putin aveva pronunciato il famoso discorso sulla conferenza per la sicurezza di Monaco in cui parlava dell'iniquità di un mondo unipolare del fatto della necessità di costruire un ordine mondiale un ordine internazionale più equilibrato e meno centrato sulle necessità di un'unica superpotenza che definisce gli standard per tutti gli altri l'anno dopo come dicevo il vertice di Bucharest si fa avanti questa a luglio il vertice di luglio 2008 un mese dopo la Georgia di Saakashvili aggredisce le due repubbliche indipendentiste dell'Ossetia del Sud e dell'Apkazia la Russia reagisce immediatamente militarmente invia l'esercito invade la Georgia e sostanzialmente pone fine a tutte le velleità di Saakashvili e quello era un segnale piuttosto chiaro la Russia non avrebbe tollerato l'integrazione di due paesi cruciali come la Georgia e l'Ucraina nella Nato la Georgia è tantomeno l'Ucraina che è molto più grande ha molti più abitanti si estende lungo ha in comune con la Russia una quantità di chilometri incredibile di confine e quindi con tutte le precauzioni che la cosa comporta e Orban disse che in quell'occasione furono alcuni leader occidentali segnatamente Merkel e Sarkozy a decidere di soprassedere quantomeno momentaneamente rispetto alla prospettiva dell'inclusione dell'Ucraina e della Georgia nella Nato a suo avviso la Russia comunque se si fosse deciso di puntare dritto con l'inclusione dell'Ucraina e della Georgia in quel momento a suo avviso la Russia non aveva ancora la forza sufficiente per opporsi a tutto il blocco atlantico contrapposto quindi fu la saggezza di alcuni leader occidentali a sabotare questo processo però nel 2014 si è tornato a parlare di queste cose lì sì la Russia invece ha continuato a crescere ad espandere la propria potenza ha cominciato a mettersi sempre più di traverso rispetto a questo processo e che poi comunque con il colpo di stato di Euromaidan eccetera a quale come abbiamo visto la Russia si è opposta ha reagito con l'incorporazione della Crimea e con il sostegno a tutto tondo alle due repubbliche indipendentiste di Donetsk e Lugansk questo ha impedito ha bloccato l'adesione il processo di adesione dell'Ucraina alla Nato come sappiamo e soprattutto ha patrocinato assieme a Francia e Germania i cosiddetti accordi di Minsk che sostanzialmente prevedevano la permanenza delle due repubbliche indipendentiste ormai la Crimea era persa l'Ucraina e la Crimea era ormai parte integrante della federazione russa e quel verdetto era inappellabile ma contemplavano la permanenza delle due repubbliche indipendentiste di Donetsk e Lugansk all'interno dell'Ucraina in cambio del riconoscimento loro di un ampi margini di autonomia linguistica economica eccetera e allo stesso tempo prevedevano che l'Ucraina si sarebbe collocata su una posizione di neutralità come abbiamo visto gli accordi di Minsk lo ha detto non lo dico io ma l'hanno detto degli sospettabili come la Merkel e lo stesso Poroshenko presidente ucraino che ha salito al potere dopo il colpo di stato di Euromaidan hanno dichiarato recentemente con grande disinvoltura senza problemi che in realtà quell'accordo serviva soltanto per comprare tempo per porre l'esercito ucraino che all'epoca era lo smando più totale nelle condizioni di riorganizzarsi rafforzarsi beneficiare del supporto militare occidentale dell'addestramento eccetera e porlo nella condizione di diciamo di riconquistare queste due regioni indipendentiste che è una chiara golazione delle accordi di Minsk quindi questo è un dato inequivocabile e poi naturalmente il resto lo conosciamo adesso siamo arrivati a un punto che Orban prevede Orban stesso ha invocato in quell'intervista che occorre intavolare trattative diplomatiche che prevedano la collocazione dell'Ucraina su una posizione di neutralità cioè fornire le garanzie di sicurezza ad entrambi costruire un'architettura di sicurezza che tenga in considerazione le esigenze di tutte le parti coinvolte che è poi il principio dell'indivisibilità della sicurezza che è un cardine della carta delle Nazioni Unite francamente perché costruire la propria sicurezza a spese altrui che è esattamente quello che la Nato ha fatto quantomeno dal 1991 in poi è qualcosa che porta poi a questi esiti come quello ucraino quindi Orban si sta chiaramente mettendo di traverso rispetto a processi che ormai sembrano ormai innestati col pilota automatico perché ormai il processo di allargamento della Nato ormai manca la Bosnia-Herzegovina quella sarà sappiamo nella lista dei papabili e la Serbia ormai è assediata prima o poi sarà costretta ad aderire all'Unione Europea e come sappiamo l'adesione all'Unione Europea poi è il prodromo all'integrazione nella Nato probabilmente stanno no toglierei probabilmente hanno cercato di riprovarci con la Georgia che per la stessa per la missione dei suoi stessi leader politici è stato oggetto di forti pressioni non soltanto da parte dell'Ucraina ma anche di altri paesi occidentali affinché aprisse un altro fronte meridionale quindi distogliesse delle forze russe dal teatro ucraino per richiamarle verso il Caucaso la Georgia giustamente il leader georgiano ha detto noi dipendiamo per l'80% della nostra economia dall'interscambio con la Russia la Russia è un colosso noi ci annichilirebbero i due giorni non ci accodiamo assolutamente a questo non ci stiamo a questo gioco però è evidente che l'andazzo sia quello e Orban il timore più grande di Orban è proprio quello è proprio che diciamo le ambizioni io li chiamerei quasi deliri di alcuni leader politici di alcuni paesi d'Europa che adesso sono parte sono i bastioni orientali della Nato che sono i paesi baltici e la Polonia e direi anche un paese che non è un po' meno orientale ma purtroppo è pericolosissimo e coinvolto fino al collo in questi processi che è la Gran Bretagna si hanno tentati di innalzare continuamente il livello dello scontro quindi Poloni e Baltici potrebbero sostanzialmente mandare proprie truppe come volontari diciamo in territorio in territorio ucraino ma non come forza Nato e alla quale la Russia ha risposto benissimo se vuoi allora anche noi ci riserviamo di rispondere sul territorio polacco perché a quel punto se non entrate come forza Nato anche quando subite non dovete essere inquadrati non dovete diciamo asseragliarvi dietro la protezione della Nato e quindi questo si innesca un gioco molto pericoloso e questo pericolo Orban lo vede molto chiaramente perché lui giustamente lo rimarca più volte in questa intervista noi confiniamo con l'Ucraina non solo confiniamo con l'Ucraina sono circa 150.000 cittadini cittadini di origine ungherese maggiara che sono però cittadini ucraini perché vivono nella regione della Transcarpazia che servono come soldati nell'esercito nelle forze armate ucraine stanno morendo per l'Ucraina quindi tutto ciò che avviene in Ucraina ha delle ripercussioni dirette sull'Ungheria e quindi probabilmente Orban è l'unico all'interno dell'Unione Europea ad esprimere una voce di dissonanza reale rispetto a un coro che sembra cantare tutto all'unisono verso tutti insieme diciamo appassionatamente verso il bar un po' come i sunnambuli di cui parlava Christopher Clarke cioè quei politici che tra errori di calcolo presunzione eccetera condussero l'Europa verso quel macello della prima guerra mondiale anche secondo te non è escluso che la situazione scappi di mano? diciamo che quando ci sono tutti questi comprimari che hanno degli interessi palesi in questa situazione il fatto stesso che se ci fai caso gli attacchi ucraini hanno cominciato adesso a dirigersi su obiettivi civili all'interno della federazione russa prima nel Mar Nero cioè prendevano di mira alcune imbarcazioni eccetera quindi cercare di colpire il commercio russo ma quella è una roba che in una logica di guerra ci può anche stare ma il fatto che adesso con dei droni vengano attaccate delle strutture civili all'interno della federazione russa è qualcosa di molto molto pericoloso e io dubito fortemente che questo sia un farina unicamente del sacco degli ucraini io credo e prima menzionavo la Gran Bretagna io credo che ci siano alcuni personaggi alcuni segmenti degli apparati della Gran Bretagna e degli Stati Uniti faccio riferimento espressamente a Victoria Nuland che stiano cercando o fare una provocazione o inscenare un gesto talmente plateale un evento talmente grande da suscitare una reazione eccessiva spropositata da parte della Russia che in una qualche maniera fornisca una giustificazione politica al coinvolgimento crescente di questa cosiddetta coalizione dei volenterosi di cui si parla ormai da tempo che verrebbe inviata a questo punto a combattere fianco a fianco degli ucraini cioè mercenari ci sono già mercenari anche personale della Nato che è già lì sul campo da tempo però qui si salirebbe veramente di livello e questo pericolo per me è reale quando ci sono come dicevo quando la situazione si fa così critica e gli interessi in gioco sono così grandi perché noi ricordiamo che questa era una guerra fino alla prima ora di natura esistenziale per la Russia ma a questo punto potrebbe esserla diventata anche per gli stessi Stati Uniti perché ricordiamo che se la Russia come il trend è questo l'andazzo è questo se la Russia continuerà a resistere all'assedio militare ed economico occidentale e riuscirà a ottenere la vittoria sul campo di battaglia nonostante questo assedio la credibilità il danno d'immagine per la Nato in generale e per gli Stati Uniti in particolare potrebbe condurre a un allentamento considerevole della presa che tuttora riescono ad esercitare sul sistema finanziario internazionale cioè il fatto che i BRICS non si può non vedere un legame un filo rosso che collega lo scoppio della guerra russo-ucraina con l'accelerazione forse nata di processi che prima erano allo stadio ancora embrionale cioè sei nuovi paesi saranno cinque alla fine perché l'Argentina probabilmente non entrerà ma cinque o al massimo sei nuovi paesi entreranno dentro il gennaio del 2024 all'interno dei BRICS la lista d'attesa è piuttosto lunga quindi c'è un numero crescente di paesi che sta guardando con sempre più maggiore interesse verso queste organizzazioni internazionali che sono alternative all'Occidente sono nate magari non nascono in contraposizione aperta ma nascono dall'esigenza di creare strutture istituzioni che funzionino che siano regolate da meccanismi in grado di tener conto e di tutelare maggiormente gli interessi di tutti e non solo di qualcuno e quindi questo mi pare che sia questo processo storico abbia subito un'accelerazione rispetto a questo processo diciamo il conflitto russo-ucraino ha avuto un effetto catalizzatore dirompente che rischia come dicevo di pregiudicare o comunque porre le condizioni per un allentamento graduale ma potenzialmente micidiale della presa che gli Stati Uniti hanno sul sistema finanziario mondiale quindi in gioco c'è veramente molto questa guerra sta potenzialmente diventata ormai esistenziale anche per gli stessi Stati Uniti ecco è evidente anche che un'eventuale sconfitta in Ucraina dopo l'investimento non solo militare economico ma anche etico morale come dire mediatico di tutti gli apparati occidentali intorno a questa guerra presentata come la lotta della luce contro le tenebre determinerebbe cascata l'annichilimento di tutte le classi dirigenti non solo statunitensi o anglosassoni ma anche soprattutto quelle europee diciamo governate da personaggi che sono chiaramente etero diretti dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra ma che però si possono presentare come difensori di un ordine internazionale libero e sovrano nel momento in cui vincono ma quando perdono rischiano di prenderle molto duramente ti faccio un'ultima domanda Giacomo lasciamo per un attimo Orban e Tucker Carlson e parliamo del continente africano ieri abbiamo intervistato un imprendito un economista che ha conosciuto del posto presidente del Gabon Bongo e ci ha spiegato che questo Bongo è un tipo un po' ambico a parte essere una figura estremamente corrotta che in ogni caso sì è vero che lui aveva buoni rapporti con i francesi però faceva il doppio gioco avendo posizionato il Gabon in maniera pericolosamente vicina al sistema di potere inglese del Commonwealth insomma ce l'ha presentato come il tipo che gioca su più tavoli secondo te la destabilizzazione del Gabon è balletta sulla falsariga di quella del Niger e degli altri paesi dell'ex area francofona che si stanno liberando da questa camicia di forza o è invece una partita a sé? Io direi che una connessione c'è perché il terreno ormai è fertile perché questi fenomeni si verificano e prendano concretamente piede evidentemente in Africa spira un'area di cambiamento che è percepita da una componente molto importante del continente africano il Sahel è un'area in cui questo fenomeno si avverte in maniera molto consistente il Gabon a mio parere è un po' diverso perché è un paese un grande produttore di petrolio importante e quindi è infatti uno dei pil pro capite più elevati dell'Africa non a caso perché è un paese anche relativamente piccolo però come dicevi giustamente è stato amministrato per 60 anni da una famiglia Bongo prima suo padre poi il figlio insomma quindi tutto questo lo dice lunga e come al pari di buona parte dei leader africani si è costruito le proprie fortune ha ottenuto la propria copertura politica vendendosi al miglior offerente e il miglior offerente in quell'area sono generalmente i francesi ma chi ha occhi per vedere certamente gli africani che vivono in loco i leader africani hanno fiuto per queste cose avvertirà che già da tempo l'influenza francese è declinante la Francia ha in fortissime difficoltà che se si pensa che stava le leità di Sarkozy di strappare alla Libia al dominio al dominio non al dominio però comunque all'influenza italiana per includerla in quella francese si è risolto in un disastro epocale perché ha trasformato la Libia in un buco nero dal quale diciamo l'ondata si è scatenata un'ondata di destabilizzazione che poi si è riversata in Mali si è riversata nel Sahara occidentale si è riversata in Niger quindi c'è tutto un subbuglio che ha culminato con l'arretramento ormai radicale dei francesi e con l'avanzamento con la conquista di territorio da parte dei cinesi e dei russi e operano su due piani differenti i cinesi infrastrutture penetrazione smaccatamente economica i russi hanno una penetrazione di tipo diversa cioè di sicurezza con le compagnie la Wagner innanzitutto ma non è solo la Wagner e soprattutto con la diciamo la costituzione di di rapporti culturali e di formazione professionale in base ai quali il personale africano viene inviato o in Russia per formarsi oppure si aprono direttamente centri di formazione in loco in modo tale che il personale locale possa accedere alle tecnologie russe questo crea dei legami personali molto importanti che hanno un grande ritorno garantiscono un grande ritorno politico ed economico a chi è in grado di instaurarli quindi la Francia si vede costretta a giocare in difesa in tutta una serie di partite in cui era il boss incontrastato per decenni e ormai si rischia anche di perdere la zona della Franza Frick cioè la zona del franco CFA attraverso il quale la Francia tiene legati a 614 nazioni dell'Africa occidentale e diseguirei che in questo contesto la destabilizzazione del Gabon è un altro tassello del mosaico vedremo che piega prenderanno gli eventi però è interessante notare che questi militari stanno prendendo il potere in diversi paesi si ricordi il Burkina Faso tanto per dirne uno se ti pensi al Mali eccetera magari fanno valere i propri contatti pregressi perché il Niger la giunta militare nigerina c'ha buona parte del personale che si è formato militarmente negli Stati Uniti questo è un dato di fatto però questo non implica necessariamente che agiscano come delle marionette degli Stati Uniti questo non è assolutamente un automatismo io credo che questi personaggi sappiano siano in grado di annusare l'aria che tira e di muoversi di conseguenza hanno capito che il momento è propizio perché c'è un vento di cambiamento che ormai ispira in tutta l'Africa quindi è facile come le tessere di un domino cavalcare il momento per ottenere risultati che magari in altre fasi storiche sarebbe stato molto più delicato e complesso ottenere quindi c'è la possibilità che qualcuno abbia cercato di tirare uno scherzetto ai francesi approfittando della loro debolezza anche per farli ormai definitivamente sloggiare di ormai far inclissare tutta la loro influenza nel continente africano e questo non è necessariamente opera dei russi e dei cinesi sia chiaro io credo che potrebbero benissimo essere anche gli americani a vedere con favore questo tipo di prospettiva ricordiamo che nel 1956 quando i franco britannici assieme agli israeliani invasero all'egitto durante la crisi di Suez fu l'intervento comprensibile prevedibile dell'unione sovietica ma soprattutto degli stati uniti a rovesciare gli esiti di quella di quell'iniziativa di quell'iniziativa avventurista cioè fu gli americani l'amministrazione Eisenhower cominciò di e gli è demandato di vendere le sterline alla borsa di New York e quindi questo si tradusse in una svalutazione della sterlina clamorosa una crisi economica terribile che portò si è tradotta in un disastro socio-economico per la Gran Bretagna quindi l'epoca coloniale è finita questo era il messaggio che intendevano inviare gli Stati Uniti ai loro cugini britannici almeno l'epoca del colonialismo formale è finita se volete ritagliarvi i vostri giardini di casa dovrete ricorrere a strumenti meno o meno plateali e più subdoli sicuramente che è quelli che la Francia ha attuato con la zona del Franco CFA per esempio il problema è che ormai i tempi sono maturi perché quello che rimane delle potenzialità dell'Europa vengano ormai sacrificate del tutto e ormai quindi che l'Europa arretri si chiude in se stessa rinuncia all'energia della Russia alle tecnologie cinesi e magari non sia più neanche nelle condizioni di esercitare una certa influenza in Africa che è quello che le rimane ormai per poter avere una minima prospettiva di sviluppo industriale e questa credo che questa prospettiva non sia esattamente invisa a una parte perlomeno della classe dirigente statunitense quindi la chiave di lettura potrebbe essere anche questa a mio avviso è anche vero che non è la prima volta che gli inglesi si dimostrano molto peggiori degli americani anche dietro i tentativi di golpe in Italia il golpe borghese e altre operazioni di quel tipo c'era chiaramente la mano dell'MI6 e pare furono poi alcuni alti esponenti dell'amministrazione americana a spiegare agli inglesi che non era il caso di utilizzare in un paese come l'Italia metodi di quel tipo va bene grazie a Giacomo Cabellini sempre puntuale e preciso grazie ancora Giacomo grazie a voi buonasera a tutti bene cari amici di Visione TV grazie per aver seguito questo nostro importante approfondimento io vi chiedo a cortesia di aiutarci a fare conoscere dappertutto il nostro mensile Visione un altro sguardo sul mondo una fatica mensile davvero importante che però ci sta dando grandissime soddisfazioni abbiamo lanciato questa iniziativa proprio per contrastare le menzogne del mainstream non soltanto in rete ma anche con uno strumento nobilissimo e sempre attuale come la carta l'ultimo numero denuncia il ritorno di questa incredibile censura digitale questa inquisizione intollerabile che porta i volti di Zuckerberg Vespa e Mentana nuovi paladini del politicamente corretto dobbiamo reagire diffondendo buone idee preparando la gente ad una resistenza culturale contro questa vera e propria aggressione oscurantista per cui andate sul nostro sito www.visionatv.it acquistate il nostro mensile fatelo conoscere regalatelo commentatelo criticatelo se è del caso ma noi abbiamo oramai lanciato una vera e propria battaglia culturale contro questo sistema e la possiamo vincere soltanto grazie ad una ondata di entusiasmo a proposito di entusiasmo vi aspetto il 16 e il 17 di settembre a Trento ci sarà anche Giacomo Gabbellini con noi per la prima grande festa nazionale di Visione TV prenotatevi alla sezione eventi sul nostro sito perché stanno arrivando un numero incredibile di richieste sarà bello rivedersi lì tutti insieme devo infine segnalarvi che purtroppo Visione TV sta registrando in questa fase un calo abbastanza preoccupante delle donazioni certo c'è stato il periodo estivo il momento è complicato però vi chiedo di non dare mai per scontata la nostra presenza il nostro impegno gratuito quotidiano è costante può proseguire soltanto se il nostro pubblico continua a difenderci a sostenerci anche economicamente potete farlo con bonifico paypal abbonandovi sul nostro sito www.visionedv.it dovevamo arrivare a 3.000 sostenitori fissi invece purtroppo nell'ultimo mese sono il numero dei sostenitori fissi si è pericolosamente avvicinato alla soglia dei 2.000 dobbiamo provare ad invertire questa situazione grazie ancora a tutti voi una buona giornata grazie a tutti